Il titolo del corso si chiama strategie digitali, l'obiettivo è quello di diffondere il maggior numero di conoscenze affinché i ragazzi possano diventare dei marketers e degli esperti in comunicazione digitale sfruttando non solo i canali social ma più in generale quelle tecniche che sono alla base della comunicazione marketing moderna che può andare bene sia per il piccolo che medio e grande imprenditore. Le ore che mi vedono protagonista come docente con i ragazzi affrontiamo proprio questo argomento dal punto di vista teorico ma soprattutto pratico con tantissimi case studies perché per l'appunto strategie digital significa non solo apprendere le conoscenze base ma soprattutto metterle in pratica quasi in tempo reale visto che l'evoluzione del mondo social è un qualcosa che avviene all'ordine del giorno.